Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Io ho provato le caglie la figa Aspetta, aspetta, partiamo con calma, dimmi che cosa è, cosa è, cosa è andata Cioè tu scusami, in che modo, cioè senza neanche arrivare al bacio ma direttamente al clito, cioè vorrei capire qual è stato Ma tu SMS e Zara conosci qui in Giorgia? Eh no Ma sai chi è almeno? Sì, ero nella sua vecchia squadra, la sai? Ah sì, è forte lei? Ma accendo con la verifica telematica della verificità di questa affermazione Minchia Aspetta, cosa Zara? Non canto in creator Quindi fa cagare Eh sì, zio Però io scusa, leggevo che la sua ragazza o ex, quello che è, Croatomist, lei è tipo in realtà una delle più forti tipo top player femminili, no? Ma dipende da cosa parliamo di forte Ah è tipo come quando si diceva che Ciccio Gamer era la più forte forte Esatto, sì, sì Dolce dolce ma con gli altri gatti fidati è veramente un bastardo Dai comunque altre cose a quello che Cazzeridi Manu Guarda l'ultima sub tua Ma micchia, ma che velocità è? Enrico Coveriti TV, perfetto Vabbè Ottimo Ma scusate Katia dai, dici qualcosa che fai solo tu Ah io ho detto che c'ho paura delle mosche Aspetta che mi devono venire ancora in mente Non lo so, non penso di fare cose strane in realtà Dai, coctu Qualcosa di strano? Non esco di casa se le mie scarpe non sono allacciate esattamente al palco Ho sempre pensato e non ho mai fatto Sì, che ogni tanto magari dici ma mi piacerebbe quasi quasi Non lo so, forse Forse Grazie per i beat In un futuro, così, gioco di ruolo, non lo so Gioco di ruolo, tipo? Bello Ok, troppo specifico Tu Ulisse ci staresti a fare un gioco di ruolo a letto Sì Perché no? Dipende dall'istruzione No, Gioia non c'è Gioia a fare la reaction al primo appuntamento No, scusate No, è un content È un bel content No, adesso mi chiamerà sicuro Che palle Grazie Lorenzo Valsacchi 7 Grazie mille Alessandra Qual è il tuo punto forte a letto? Il tuo cavallo di battaglia Io sopra? Sei bravissima Minchia Campiona Sì, penso Ok Non so Invece Alessandro, qual è il tuo punto di forza? A me piace tanto leccarla, capito? Per leccare la vagina Quindi E puoi descrivere Puoi descrivere come? Che capisco? Il dettaglio Come? In che senso? No, lo ceriamo Come la lecchi, porco Dio Come? No, no Le bestemmie no Le bestemmie no Perfù Come? Lecco tutto Mi piace leccare molto Senzualmente Lecchi anche il buco del culo? Sì Ok Facciamo così Prova ad ascoltarti questi tre alert di fila E dimmi se ti da fastidio Se vuoi dopo questi tre capirai se ti da fastidio o no Ciao sono Kokeshi Fabiore Mi manchi come l'aria Mi fa volare Ah Mi fa volare Grazie per gli abbonamenti regalati Greenboard Fabiore Torna da me Mi manchi Fabiore Mi fa volare Scusa la nuova ragazza Mi sa che parterà ancora un altro di colpo Mary Una maschera di pelle sopra il viso Che mi colla Una vetrina sulle stelle Con la musica Da ballare A ballare Per me o sì Mirai il denuncio stasera Non riesco a capire Vabbè sì È censurato È censurato Bene possiamo iniziare Grande Vez Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Tutto grazie a te Siamo tutti? No però Ah ecco lo shade Ciao Ciao buonasera Come stai Tito? Buonasera Buonasera Eh sì Bentrovati 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 tutti Per me sì siamo presenti Siamo presenti Siamo presenti Siamo presenti Siamo presenti Siamo presenti Oddio guarda Aspetta Aspetta Siamo vicinissimi Aspetta 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 Guarda Aspetta Aspetta Unita bellissima Cos'è che Oh mio dio Aspetta Guarda Unita bellissima Coc Coc Immagino Unita veramente bella Unita veramente bella No Simone Aspetta Coc Scusami No Mi dissori Cioè ci vuoi bene a pari? No Tanti vuoi scopare A Gioe no Cosa vuoi Cosa vuoi Cosa cazzo vuoi? Cos'hai detto Simone? Cosa? Perché lei insieme no? No vabbè A te Gioe Magari Cioè così Magari possiamo spadarcela Però Voglio dire Coc è una donna Vaffanculo Cioè hai detto che mi vuoi scopare? Coglioni No Non l'ho detto Coc Vabbè comunque A chi vuoi più bene? A mamma o papà? Con me Ma faccio Faccio volentieri E siamo io Va bene Io e Coc Io e Coc Che cosa? I protagonisti Sbagliato Non ho capito I protagonisti di Obono Quelli che stanno in mezzo A essere valutati Sì Scherzo Mi pare Dai Io ce la faccio più Ho capito Solo sborra Allora Simone Gli italiani spesso vanno in Croazia A fare vacanze Ok È vero Brava La lingua Ci assomiglia Aspetta Parla ancora Parla ancora Perché io Parla ancora Come si dice Nonna Non sei smart 5 sub giftate Non c'è nessun alert 10 sub C'è quello di Ballare 20 sub C'è quello di Coc 30 sub Quello di Rubino 50 sub Quello di Jody O il contrario E 100 sub Ho messo Quello Che esplode tutto Con la tante del frerito Ciao Ciao Sono Coccesci Fabiore Mi manchi come l'aria Mi fa volare Mi fa volare Grazie per gli abbonamenti regalati a Greenboard Fabiore Torna da me Mi manchi Fabiore Mi fa volare Scusa la nuova ragazza Per cosa che non può proprio mancare nella mia relazione È la sottomissione vitotale Mia Valeria Vedovatti Mi manchi Mi manca come mi sottomettevi Come mi tiravi addosso le cose Io ero sottomesso per eccellenza Chiara Faimi Non mi pesta abbastanza Calti sulle palle Li voglio tutti Voglio essere il picchiato sottomesso dalla mia donna Mi piace quello Valeria Vedovatti Torna Grazie per le sub Ma non è vero Vado a Su Vicky Vedo le tue storie Dio boia No Oh Dio Vabbè Scusate Scusate Qualcuno che fa la clip Fuori di testa Zio Cioè appena me lo son tolto dal naso Visto che tu l'hai tolto dal naso E hai fatto tipo Così? No io ho fatto Ah io ho fatto No vabbè Ci voglio credere Vabbè comunque Chi è che ha perso? Coc? Coc Ok vai Vets Fai la domanda a Coc Su Vai Deve essere scomoda eh Quindi sai già Dobbiamo lasciare Mi raccomando Ah ecco Mi raccomando State attenti a mandare tipo gif Perché l'altra volta Mi hanno mandato una gif di Hitler Quindi attenzione No no Mi raccomando Ma a parte che non le ho Quelle robe lì io Vabbè ma Hitler Non è bannabile Vabbè insomma Evitiamo di mettere Una gif di Hitler Ne ho una vestito da napoletano Che figa però Allora 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 Che 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 Grazie a tutti